Ok, oggi è il 21.15, sono circa le 11.30 e mi sto recando all'ufficio protocollo del comune di Ponte di Piave a consegnare una mia nuova comunicazione con dei importanti contenuti riguardanti l'impossibilità di consegnare i pannolini e i pannoloni all'interno del card, anche se è il codice, il CER 20.03.01, in teoria la provincia lo ha compreso dentro la possibilità di consegnare il card. Questi sono i pannoloni, sto consegnando i pannoloni, Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.